E noi vogliamo presentare qui stasera il barista di Balciano Un'arriva, ci avrà clienti ai bar Sento uno sputacchio Ah eccolo, buonasera Buonasera Beh Ma guardavo tutti Ma lei pulisce così? Ma con lo stesso cencio? Ma che schifo scusi, ma lei pulisce i bicchieri con lo stesso cencio e metterli in naso? Ma te lo dici? Come lo dico io? L'ho visto, l'ho visto Non te lo puoi dire se non tu lo sai Non te lo puoi dire Ma lo so Ma che schifo ma scusi Alla c'è un bar quindi Guardi scusi Ma te lo dici? No, 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 io guardi Io non ci prenderei male nel suo bar Perché io se fai un affare di genere Che cosa sta male? Che c'è le compulsioni? Ma la gente con che coraggio la gente Con che coraggio la gente Soppa uno dopo cena prende il caffè Perché scusi Perché c'è un orario di caffè Caffè si fa la mattina se vi chiamiamo la sera Ma uno può un dormire la sera Con che coraggio? Sua abitudini personali Ma scusi io se voglio un caffè Ma che sta male la gente? Che scusi se io vengo a prendere Non so un cappuccino Un cappuccino me lo fa? Un cappuccino? Con che coraggio? Un cappuccino la sera? Un cappuccino si fa la mattina? Si va bene la mattina ma se lo fa? Ma quello che succede nel mondo C'è la gente va nel mondo Non è rapido scusi La polizia ma gira a cavallo Non c'hanno neanche le macchine C'hanno la palla ma c'hanno gli inglesi Ma cosa? Ma cosi? Ma perchè? E lo fanno loro E' una tradizione loro C'hanno la regina Ma insomma Sono anche più avanti Cosa fa con quel ceccio? Asciuga le parti intime Sono sudato Si va bene sudato Sono sudato Non ci asciughi il bicchiere Ma scusi ma questo lo vado a servire Poi alla gente Ma guardi lo sputavo veramente Io ho un carino Ma ti lo sputavo? Ma ti lo dico io Ma ti lo dico io Ma si vede Ma anche tu Ma lei si vedeva a comprare il caffè da lui No Guardi non ci vengono da lei Lei viude Mi sa che viude Ma in Cina osso Ma in Cina c'è un silenzio in Cina osso Ma in Cina c'è un silenzio in Cina osso Non c'è rimasto più nessuno osso Come? Sono tutti a Prato a lavorare Ma non è fredda In Cina c'è un monte di gente Ma tu lo dici te? Ma tu lo dici te? Si a Prato ci sono ma in Cina ci sono ancora e Ci sei stato? Ci sei stato? No no ci sono stato io personalmente Però No te lo puoi dire Ma in Cina si vedono Che vedono? Tutto alcolizzati Ma perché? Ci hanno da cirrosi Sono tutti gialli Ma non è vero? E' una carattrizza Della peccantazione della pelle Non è quello il discorso Ma mi fa preoccupare a me con questa convulsione Che ti viene Ma cosa? Ma scusi eh Ma lo dico io Non c'è una carta Ma ora lo dico io Guardi Guardi il pizzettino Si C'è il mare a bocciare Ma cosa è il mare? Ora è il mare Siamo Ma che dico? A Quaregio? A Quaregio c'è il mare Ora Ora mi vuol dire No Io Ma lo sai che i vareggi Vengono a Quaregio Vengono a Quaregio I che? E c'è l'altro di Vareggio Vengono a Quaregio Vengono a Quaregio Perché non sta più bene Ma Io Io non ci vedo a queste cose Non ci vedo perché non sono veri Non so A Marina di Montalbano A Marina di Montalbano Ma cosa è Marina di Montalbano? Non esiste Marina di Montalbano? Che c'è gli stabilimenti partneri ora A Marina di Montalbano Ma ora c'è gli ombrelloni L'estraio Ma si cosa si Lei dice un monte di ansame Dice un monte di ansame E tu lo dici? Eh beh E lo dici? Tutto lo scena Tutto lo scena Tutto lo scena Io C'è avveri qualcosa da dargli Perché io Non faccia così Non faccia così No che schifo Che schifo Mi è rimassata a casa Che cosa Io davvero Non so che Che sei abilito La pipì! No! La pipì! No! Qui no! Vieni dentro e la fai! Non si può fare! Siamo stucchi eh! Siamo stucchi! Siamo normali! Siamo normali eh! Facci il meccanico! A lei faceva il meccanico! Ah! A BAUCIAN! Carvana! Cima alla Carvana! E come faceva venire la gente in cima alla Carvana scusi? Dei fatti sono fallito! Ma poi scusi uno appena veniva via poi la rispasciava subito la macchina perché... L'aveva aperta in cima, in cima! La gente ce la faceva alla rincorsa! Aveva aperto un altro in fondo vicino a retromarcia! Gli arrivavano tutti da retromarcia! Fatto solo! E' chiuso! Ah! E' chiuso! E' aperto i barri ora! Vuoi i barri? Vuoi i barri? Eh ma va! Salutatelo perché va ai barri! A BAUCIAN! A BAUCIAN! A BAUCIAN! Grazie! Io... come...